Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignone. In A1 si segnala la chiusura del tratto Rioveggio-Aglio in entrambe le direzioni fino alle 19 di oggi. Tra Sasso Marconi e il BV A1 variante La Quercia coda per incidente al chilometro 214 in direzione Roma. In direzione Bologna coda per un mezzo fermo tra Calenzano e Barberino del Mugello. In FIPILI traffico rallentato tra Empoli e Montelupo in entrambe le direzioni. Ricordiamo che sulla FIPILI l'entrata Empoli-Est in direzione Firenze resterà chiusa per lavori nella tratta Empoli-Est-Montelupo-Fiorentino fino al 22 novembre. Tossegue a Firenze l'implementazione dei cantieri della nuova variante Fortezza San Marco della Tranvia che riguardano in particolare Via Cavour e Via Lapira. Lavori di asfaltatura in via San Domenico con implementazione di senso unico alternato con Movieri. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!